Buongiorno e benvenuti, buongiorno e benvenuti, la lezione è cominciata. Apriamo i nostri libri e i nostri quaderni, buongiorno e benvenuti, buongiorno e benvenuti, buongiorno. Ecco la mia nuova alunna Sofia. Buongiorno professor Totò. Buongiorno Sofia, oggi come prima lezione guarderemo un film, si intitola La giornata di Enrico. Che bello professor Totò, mi piacciono molto i film. Ciao, mi chiamo Enrico. Io ho quattro anni. Io sono basso, 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 basso. Ho una sorella, si chiama Caterina. Lei ha cinque anni. Lei è più alta di me. Ho anche un fratello. Si chiama Paolo. Lui è più alto di Caterina. Lui va all'università. Papà è molto alto e anche mamma. Io voglio tanto bene a mamma e a papà. Al mattino mi sveglio. Prima di tutto vado nella camera da letto di mamma e papà. Poi vado in bagno con mamma. Mi lavo le mani. Mi lavo il viso. Mi lavo i denti. Mi pettino. Poi vado in camera mia. Mi tolgo il pigiama. Mi vesto. Mi metto la camicia. Mi metto i pantaloni. Mi metto il maglione. Mi metto i calzini. Mi metto le scarpe. Anche Caterina si veste. Si mette la camicetta. Si mette la gonna. Si mette la calzamaglia. Si mette i sandali. Mamma prepara la colazione. Io gioco a palla con papà. Faccio colazione in cucina con papà, mamma, Caterina e Paolo. Mangio del pane. Bevo una cioccolata calda. Papà beve il caffè. Mamma beve il tè. Caterina beve il latte. Le mangia pane e miele. Paolo beve il caffè e il latte. Io dico ciao a mamma, ciao mamma, a mia sorella, ciao Caterina, a mio fratello, ciao Paolo, al mio cane, ciao Bobby, al mio gatto, ciao Micio, al topolino, ciao topolino, al pesciolino, ciao pesciolino. Poi papà mi porta a scuola in automobile. L'automobile di papà è veloce. Caterina prende l'autobus per andare a scuola. Paolo va all'università in motocicletta. Mamma va a fare un giro in bicicletta. La mia classe è davvero bella. Ci sono molti armadi dove sistemare i giocattoli. Ci sono anche tavoli e sedie. Ci sono due bagni. Ci sono molte finestre. Io riesco a vedere il cortile dei giochi dalla finestra più grande. In classe noi giochiamo con i cubi. Io disegno. Io coloro. Guarda com'è carino il mio disegno. Il cielo è blu. Le case sono rosse. Gli alberi sono verdi. I fiori sono gialli. Gli uccelli sono arancioni. Io dipingo. Uso questi colori. Il viola, il rosa, il bianco, il marrone, il grigio. Io canto. La mia canzone preferita è quella dell'alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. H, I, I, I lunga, K, L, M, N, O, P. Io conto quanti bambini ci sono in classe. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Siamo dieci bambini. Quando il tempo è bello, io vado in cortile a giocare. Io corro. Io salto. Io gioco a pallacanestro. Quando piove o nevica, io sto dentro. Io vado nella stanza dei giochi. Io gioco con i trenini e camion. Io imparo i giorni della settimana. Lunedì. Martedì. Mercoledì. Giovedì. Venerdì. Sabato. Domenica. La maestra mi fa vedere gli animali. L'elefante. La giraffa. Il leone. La tigre. L'orso. Il rinoceronte. Il cavallo. L'asino. Il coniglio. La gallina. La pecora. Il maiale. Poi lei mi insegna i nomi dei frutti. L'arancia. La banana. La mela. La pera. Il limone. L'uva. L'ananas. E i nomi delle verdure. La patata. Il mais. Il cetriolo. L'insalata. La carota. La cipolla. Oggi imparo anche a contare da undici a venti. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. Diciasette. Diciotto. Diciannove. Venti. La maestra si congratula con me. Molto bene Enrico. Poi la mamma viene a prendermi e mi porta a casa. Ho molta fame. Mangio un panino e bevo un succo d'arancia. Poi faccio un pisolino. Dopo il pisolino gioco nel parco con mia sorella. Vado giù dallo scivolo. Vado sull'altalena. Salgo le scale. Attraverso il ponte. Scendo le scale. Poi torniamo a casa per la merenda. Per merenda mangio un panino con burro di nocciolina e marmellata. Io bevo del succo di mela. Ringrazio la mamma. Grazie mamma. Caterina mangia biscotti e beve d'acqua. Lei ha molta sete. Lei dice alla mamma. Mamma, vorrei un altro bicchiere d'acqua per favore. Dopo la merenda facciamo i compiti. Poi gioco con Bobby e il micio. Bobby guida la barca. Il micio pilota l'aeroplano. Poi guardiamo la televisione in salotto. Mamma ascolta la radio. Finalmente arriva papà. Ci dà un bacio. Lui è felice. C'è posta per noi. Il nonno e la nonna ci invitano ad andare in campagna. Papà e mamma stanno preparando la cena. Ceniamo in sala da pranzo. Dopo cena io vado in bagno. Mi spoglio. Mi tolgo le scarpe. Mi tolgo i calzini. Mi tolgo il maglione. Mi tolgo la camicia. Mi tolgo i pantaloni. Vado sotto la doccia. Mi lavo i capelli. Mi lavo le orecchie. Mi lavo il collo. Mi lavo le braccia. Mi lavo la schiena. Mi lavo le gambe. Mi lavo le ginocchia. Mi lavo i piedi. Mi asciugo con l'asciugamano. Mi metto le pantofole. Mi metto il pigiama. Vado al lavandino. Apro il rubinetto. Ahì! È calda! Apro l'altro rubinetto. Brrrr! È fredda! Apro entrambi i rubinetti. Ah! L'acqua è tiepida. Mi lavo i denti. Poi io vado nella mia camera con mamma. Vado a letto. Papà entra nella mia camera. Prende un libro. Mi legge una fiaba. Ho sonno! Do un bacio a papà. Spengo la luce. E mi addormento. Buona notte. Enrico ha avuto una giornata divertente. Sì, Enrico ha avuto una giornata divertente. Ora incontriamo i nostri amici animali. Ripeti dopo di me. Il cane. Il cane. Il gatto. Il gatto. Il topo. Il topo. L'elefante. 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 Il gallo. Il gallo. La pecora. La pecora. La tigre. La tigre. L'orso. L'orso. Molto bene. Ora facciamo un gioco. Indovina cos'è? Che cos'è? Un cane. Bene. È un cane. Che cos'è? Un gatto. Brava! È un gatto. E' un gatto. Che cos'è? Un topo. Giusto. È un topo. È un topo. Che cos'è? È un elefante. Corretto. È un elefante. Che cos'è? È un gallo. Eccellente. È un gallo. Che cos'è? Una pecora. Ottimo. È una pecora. Che cos'è? Una tigre. Giusto. È una tigre. Che cos'è? Un orso. Bravissima. È un orso. Ora vediamo cosa indossano i nostri amici. Ripeti dopo di me. Il pigiama. Il pigiama. La camicia. La camicia. I pantaloni. I pantaloni. Le scarpe. Le scarpe. I calzini. I calzini. La gonna. La gonna. Il maglione. Il maglione. La calzamaglia. La calzamaglia. Ora sai dirmi cosa indossano? Cosa indossa il cane? Il pigiama. Bene. Il cane indossa il pigiama. Cosa indossa il gatto? I calzini. I calzini. Brava! Il gatto indossa i calzini. Cosa indossa il topo? Il maglione. Benissimo! Il topo indossa il maglione. Cosa indossa l'elefante? La camicia. Esatto! L'elefante indossa la camicia. Cosa indossa il gallo? La gonna. Perfetto! Il gallo indossa la gonna. Cosa indossa la pecora? Le scarpe. Esatto! La pecora indossa le scarpe. Cosa indossa la tigre? La calzamaglia. Bene! La tigre indossa la calzamaglia. Cosa indossa l'orso? I pantaloni. Oh sì! L'orso indossa i pantaloni. Guarda qui, dimmi dove è il blu. Sì, 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 cerca il blu. Guarda qui, dimmi dove è il blu. Sì, 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 il cielo è blu. Guarda qui, dimmi dove è il giallo. Sì, 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 cerca il giallo. Guarda qui, dimmi dove è il giallo. Sì, 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 il sole è giallo. Guarda qui, verde, verde, verde. Sì, 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 cerca il verde. Guarda qui, dimmi dove è il verde. Sì, 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 l'albero è verde. Guarda qui, dimmi dove è il rosso. Sì, 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 cerca il rosso. Guarda qui, dimmi dove è il rosso. Sì, 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 il pallone è rosso. Ora vediamo di che colore sono i vestiti dei nostri amici. Ripeti dopo di me. Ora facciamo un gioco. Di che colore è il pigiama? Bianco. Bene, il pigiama è tutto bianco. Di che colore è la camicia? Arancione. Brava, la camicia è arancione. Di che colore sono i pantaloni? Blu. Molto bene, i pantaloni sono blu. Di che colore sono le scarpe? Nere. Benissimo, le scarpe sono nere. Di che colore sono i calzini? Verdi. Eccellente, i calzini sono verdi. Di che colore è la gonna? Viola. Esatto, la gonna è viola. Di che colore è il maglione? Giallo. Giusto, il maglione è giallo. Di che colore è la calzamaglia? Rossa. Sì, sì, la calzamaglia è rossa. Dottore, sono malato. Ai ai ai, ai ai ai. Mi fa male la pancia e mi fa male la schiena. Non è divertente, non so cosa far. Mi fa male il collo e mi fa male la testa. Non è divertente, non so cosa far. Dottore, sono malato. Ai ai ai, ai 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 ai. Mi fa male un braccio e mi fa male una spalla. Non è divertente, non so cosa far. Mi fa male una gamba e mi fa male un piede. Non posso più camminare. Ai ai ai, che male. Impariamo le parti del corpo. Ripeti dopo di me. La testa. La testa. Gli occhi. Gli occhi. Gli occhi. Il naso. Il naso. La bocca. La bocca. Gli occhi. Le orecchie. Le orecchie. Le orecchie. Il collo. Il collo. Le braccia. Le braccia. Le mani. Le mani. Le dita. Le dita. Le gambe. Le gambe. Le ginocchia. Le ginocchia. I piedi. I piedi. Ora guarda le mani. Quante dita ci sono? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ci sono dieci dita. Molto bene, Sofia! E nel bagno il coniglietto, e nel bagno si laverà. E nel bagno il coniglietto, e nel bagno si laverà. Strofina le orecchie, strofina bene, strofina le zampine, strofina bene. Strofina le orecchie, strofina bene, strofina le zampine, strofina bene. E nel bagno il coniglietto, e nel bagno si laverà. E nel bagno il coniglietto, e nel bagno si laverà. Strofina i baffi, strofina bene, strofina la codina, strofina bene. E nel bagno il coniglietto, e nel bagno si laverà. E nel bagno il coniglietto, strofina strofina, come sei pulito. C'è nessuno? C'è nessuno? Che cosa stanno mangiando? Diamo un'occhiata più da vicino che cosa stanno mangiando e bevendo i nostri amici animali. Ripeti dopo di me. Un panino. Un panino. Una mela. Una mela. Un'arancia. Un'arancia. Dell'uva. Dell'uva. Un tè. Un tè. Un succo di mela. Un succo di mela. Un caffè. Un caffè. Una cioccolata calda. Una cioccolata calda. Indovina che cosa stanno mangiando o bevendo gli animali. Che cosa sta mangiando l'elefante? Un panino. Bene, l'elefante sta mangiando un panino. Che cosa sta mangiando la tigre? Delle mele. Brava! La tigre sta mangiando delle mele. Che cosa sta mangiando il topo? Un'arancia. Molto bene! Il topo sta mangiando un'arancia. Che cosa sta mangiando il gallo? Dell'uva. Bravissima! Il gallo sta mangiando dell'uva. Che cosa sta bevendo il gatto? Un caffè. Esatto! Il gatto sta bevendo un caffè. Che cosa sta bevendo il cane? Un tè. Giusto! Il cane sta bevendo un tè. Che cosa sta bevendo la pecora? Un succo di mela. Benissimo! La pecora sta bevendo un succo di mela. Che cosa sta bevendo l'orso? Una cioccolata calda. Perfetto! L'orso sta bevendo una cioccolata calda. Mi piace il cioccolato, mi piace l'aranciata, mi piace il panino con la marmellata. Gnam, 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 gnam. Non mi piace l'aglio, non mi piace il tonno, non mi piace il cavolo neanche un po'. Buh, 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 buh. Mi piace l'uva dolce, il fico e la mela. Mi piace la pizza e la torta di crema. Gnam, 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 gnam. Non mi piace il brodo e il succo di limone. Non mi piace il porro neanche un po'. Buh, 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 buh. Incontriamo dei nuovi amici animali. Ripeti dopo di me. Ti ricordi come si chiamano gli animali? Che cos'è questo? Un pesce. Bene, è un pesce. Che cos'è questo? Un coniglio. Brava, è un coniglio. Che cos'è questa? Una giraffa. Molto bene. È una giraffa. Che cos'è questo? Un leone. Eccellente, è un leone. Che cos'è questo? Un rinoceronte. Straordinario. È un rinoceronte. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Un cavallo. Esatto, è un cavallo. Che cos'è questo? Un asino. Un asino. Bravissima, è un asino. Che cos'è questo? Un maiale. Benissimo, è un maiale. Il mio cane piccolo, ma se fosse grande, rincorrerebbe anche un disco volante. Il mio cane è magro, ma diverrà grasso, perché non smette di mangiare ossi. Il mio cane è felice, non è mai triste, perché fa sempre quel che gli piace. Il mio cane è veloce, non è mai lento, se arrivo tardi, avvai anzi tempo. Wuh! 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 Il mio cane è bianco, ma non è nero, gli voglio bene, bene davvero. Talvolta è sporco, ma spesso è pulito, è il mio animale preferito. Wuh! 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 Guardate il gatto, non è buffo, lungo, corto, grasso, magro, alto, basso, forte, debole, veloce, lento, allegro, triste, asciutto, bagnato, pulito, Sporco, sporco, questo rinoceronte è lungo, 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 bene, questo rinoceronte è lungo, e ora? Corto, brava, è corto! Questo maiale è grasso, questo maiale è grasso, questo maiale è grasso, questo maiale è magro, questo coniglio è alto o basso? Alto! Straordinario! Straordinario! E questo? Basso! Esatto! Questo coniglio è basso. Questo leone è forte o debole? Forte! Giusto! Questo leone è forte! E questo? Debole! Benissimo! Questo leone è debole! Questo cavallo è veloce o lento? Veloce! Brava! Questo cavallo è veloce! E questo? Lento! Bravissima! Questo cavallo è lento! Questo pesce è allegro o triste? Allegro! Molto bene! Questo pesce è allegro! E questo? Triste! Eccellente! Questo pesce è triste! Questa giraffa è pulita o sporca? Pulita! Ottimo! Questa giraffa è pulita! E ora? Sporca! Esatto! Ora è sporca! Quest'asino è asciutto o bagnato? Asciutto! Ben detto! Quest'asino è asciutto! E ora? Bagnato! Bene! Ora è bagnato! Che stai facendo? Voglio sapere! Che stai facendo? Voglio sapere! Sto giocando con mia sorella! Sto guardando la televisione! Sto mangiando una caramella! Sto studiando la lezione! Che stai facendo? Voglio sapere! Che stai facendo? Voglio sapere! Sto lavando i miei calzini! Sto leggendo un giornalino! Sto cantando una canzoncina! Sto scrivendo una letterina! Vediamo cosa stanno facendo i nostri amici animali! Che cosa fa il pesce? Legge il giornale! Eccellente! Il pesce legge il giornale! Che cosa fa il coniglio? Gioca a palla! Brava! Il coniglio gioca a palla! Che cosa fa la giraffa? Guida l'autobus! Esatto! La giraffa guida l'autobus! Che cosa fa il leone? Si pettina! Ben detto! Il leone si pettina! Che cosa fa il rinoceronte? Si asciuga la schiena! Bene! Il rinoceronte si asciuga la schiena! Che cosa fa il cavallo? Canta! Molto bene! Il cavallo canta! Che cosa fa l'asino? Insegna l'alfabeto! Ottimo! L'asino insegna l'alfabeto! Che cosa fa il maiale? Dipinge! Giusto! Il maiale dipinge! Arrivederci a presto! Arrivederci a presto! La lezione è finita! Chiudiamo i nostri libri e i nostri quaderni! Arrivederci a presto! Arrivederci a presto! La lezione è finita! Chiudiamo i nostri libri e i nostri quaderni! Arrivederci a presto! Arrivederci a presto! Arrivederci! Arrivederci a presto! Grazie a tutti